Buongiorno, benvenuti. Siamo qui dal convinto caro Alberto di Novara per questo evento che ci sta molto a cuore. La Fondazione Ammiotti oggi ha 50 anni e lo vogliamo fare in allegria e spero in bellezza. Voglio ringraziare il Tomaseo di Torino con la preside e il responsabile della VTV, Celestino Rossi. Credo che stiate vedendo adesso il backstage. Signore e signori, in diretto dagli studi della web tv, Vito Maseo, la trasmissione non è mai gioco tardi per fare una web tv scolastica. Conduce il maestro Celestino Rossi. Buona visione. Grazie. Grazie. Eccoci qua. Buongiorno, signore e signori. Ciao. 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 Sono qui per proporvi un corso di formazione su un argomento che mi sta tantissimo. cuore, il quale io mi sto in qualche modo specializzando sempre di più. La web tv. Sì, sì, proprio così. Una web tv scolastica. Durante il nostro percorso formativo io vi guiderò a esplorare quelle che sono un po' la grammatica e la sintassi del linguaggio video. Quindi le inquadrature, quindi tutto quello che riguarda i piani e i campi di ripresa, tutto quello che riguarda il montaggio che è l'ultimo momento. Ma non è tutto qui, non basta. Sperimenteremo quindi le tecniche di trasmissione sul web, le tecnologie streaming, cosiddette streaming. Quindi andremo a praticare i vari social e impareremo come comunicare su queste nuove piattaforme. Con la web tv possiamo socializzare le nostre documentazioni scolastiche, le uscite didattiche, le attività didattiche. Possiamo fare a scuola una scuola di qualità. Bene, se pensate di affrontare insieme a me questa avventura e in qualche modo vincere la scommessa, sintonizziamoci sullo stesso canale. Vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.